buongiorno oggi abbiamo lezione ora faccio l'appello calofaro angelo ok facciamo il test lei lei è qui per la licenza elementare mi dica la capitale dell'italia promosso grazie col massimo dei voti così puoi fare concorsi professore posso andare in bagno? no no me la sto facendo addosso professore tienitela professore non mi interessa tienila bestocchi 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 bestocchi